E' risultata positiva l'alcol test la 21enne di Rassina che si trovava la scorsa domenica notte alla guida della Seat Leon uscita dalla propria corsia nell'incidente stradale lungo la strada regionale 71 a Corsalone nel comune di Chiusi della Verna. Nello schianto aveva perso la vita Alessandro Nanni, imprenditore di 39 anni, originario di Monte San Savino e residente a D'Arezzo. La giovane è stata così denunciata dai carabinieri per omicidio stradale, un reato la cui pena può arrivare sino ad un massimo di 12 anni di carcere. La procura di Arezzo a seguito di quel drammatico incidente aveva aperto un'inchiesta per accertare così eventuali responsabilità dei conducenti dei due mezzi coinvolti, l'auto sulla quale viaggiavano Alessandro e la ragazza ed un Audi A6 station wagon guidata da un cinquantenne di poppi nella quale si trovava anche la figlia di 18 anni, entrambi gravemente feriti nell'incidente. I guidatori sono stati così sottoposti ad analisi per escludere la presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. Adesso è arrivato all'esito positivo per uno dei due alcol test, risultato superiore ad uno e dunque ben oltre il limite che la legge impone, ossia 0,5. Il tragico schianto era avvenuto pochi minuti prima delle quattro, quando la Seat Leon, uscendo dalla propria corsia, era finita contro l'altra auto che proveniva in senso contrario. Alessandro Nanni aveva perso la vita sul colpo.